La nuova legge tedesca sull'immigrazione renderà più facile il reclutamento di manodopera qualificata al di fuori dell'Unione Europea. L'elenco dei posti vacanti, per i quali è difficile trovare personale con competenze specifiche, si allunga sempre più, anche in Germania. Si stima che attualmente ci siano un milione e trecentomila posti di lavoro non coperti. Sono ancora alla ricerca di 5-10 lavoratori qualificati. Riceviamo molte domande di lavoro che però non rispondono ai requisiti. Devo anche guardare al futuro. Molti dei miei collaboratori che lavorano qui da anni andranno in pensione. La Germania ha un problema di popolazione. Entro il 2030 ci saranno 2 milioni di dipendenti in meno sul mercato del lavoro. Senza la migrazione di lavoratori qualificati l'economia tedesca non potrà più crescere. L'adozione di una legislazione che stabilisce in maniera chiara in che modo le aziende possano attrarre personale formato al di fuori dell'Unione Europea è dunque salutata con favore dai rappresentanti datoriali e da una buona parte dell'imprenditoria tedesca.